Allora, adesso succede questo, ci sono in sala due ospes che hanno due microfoni, questo mi interessa sicuramente, in sala ci sono, fatemi parlare, mi devo solo spiegare cos'è qui, ci sono due ospes con due microfoni, chi vuole fare una domanda, chi vuole fare una domanda alla persona o a un'altra persona che salva, può conoscere, e pensiamo. Adesso prepariamo la sedia, le oster dove stanno? E' un'altra persona che si sta a parlare, è 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 un'altra persona che si sta a parlare, Noi facciamo una prova, se si può fare bene, non si può fare se si farà, facciamo un tentativo, si vede per farlo, è tornato a questa persona, che risponderà, poi, per la giornata. Allora, vogliamo parlare di palco, Emanuele Orgarini, andiamo a Emanuele, non per noi. Allora, vogliamo parlare di palco, emanuele Orgarini, andiamo a Emanuele Orgarini, andiamo a Emanuele, andiamo a Emanuele, che arrivano a Emanuele. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.